Oggi riunione a Palermo della conferenza dei sindaci sulla sanità, convocata dall'assessore alla sanità Ruggero Razza, unico oggetto di discussione, il policlinico a Caltanissetta. E nello stesso tempo la consigliera comunale del Partito Democratico, Annalisa Petitto, chiede una convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. Mentre il civico consenso di Enna, già manifestato pubblicamente di prendere posizione per la propria città, a Caltanissetta ancora nulla, silenzio. Il Consiglio Comunale non ha detto niente e infatti ci ha pensato Annalisa Petitto che invita gli altri consiglieri della provincia a fare la stessa cosa, appoggiare il proprio territorio. Annalisa Petitto considera la discussione appunto di approdo proprio in Consiglio Comunale. Intanto è stato organizzato un'assemblea pubblica il 2 di maggio. La conferenza dei capigruppo dunque deciderà a breve se accogliere la richiesta e fissare il giorno della seduta consigliare.